E' una risposta a Papa Francesco. Lui molte volte ha provocato i giovani su tanti aspetti della loro vita. L'ultimo proprio ieri in Grecia diceva siate sociali e non social, altre volte non fatevi rubare la speranza, oppure siate cristiani e non da poltrona. Tutto questo progetto racchiude la vita di questo gruppo di giovani che hanno 20-21 anni. E' un gruppo che cammina da 7 anni insieme e raccoglie tante nostre esperienze nella nostra semplicità, però tutto questo presepe racchiude la nostra vita. E noi con la nostra vita vogliamo anche rispondere alle sue buone e importanti provocazioni, che le sentiamo belle perché prima di tutto lo sentiamo come un padre. Abbiamo deciso di utilizzare gli schianti di Vaia perché quel giorno, il giorno della tempesta Vaia, è stato un giorno molto difficile da passare, perché si sentivano queste raffiche di vento e questa pioggia molto torrenziale e quindi non sapevamo cosa stava succedendo intorno a noi. E questo ha segnato un po' tutti, penso gli altopianesi e tutte le varie persone che vivevano in posti colpiti da Vaia. E quindi abbiamo deciso di utilizzare questo legno perché dalla distruzione di interi boschi può comunque rinascere qualcosa. Bello come può essere questo presepe che è nato da una tempesta che ha rasa il suolo ettari e ettari di piante. Abbiamo deciso di mettere come oggetti del cibo, in quanto questo ricorda l'esperienza da noi fatta come gruppo giovani nel 2018 presso le cucine popolari di Roma a Colle Doppio. Questa è stata un'esperienza che ci ha fatto maturare da un punto di vista umano, ma soprattutto noi credevamo di donare, ma in realtà abbiamo ricevuto. Queste stampelle che abbiamo inserito nel presepe simboleggiano l'esperienza da noi fatta nel 2019 presso l'opera della Providenza di Sant'Antonio a Padova. In questa esperienza siamo stati a contatto con le persone affette da disabilità e le abbiamo aiutate nei momenti di pranzo, la cena e nei momenti di svago. Durante questa settimana abbiamo giocato con loro e siamo stati con loro durante tutta la permanenza.